Su questo canale di solito parliamo di filosofi e di periodi storici, a volte anche di educazione civica certo, ma con un'ottica sempre legata più o meno ai programmi delle superiori, ai programmi dell'università e focalizzato su questi temi. Però da qualche tempo ho iniziato a fare anche dei video che allargano un po' il campo e cercano di mescolare o di connettere la storia della filosofia con, ad esempio, le grandi opere cinematografiche. Abbiamo fatto dei video dedicati, infatti, alla filosofia dei grandi registi, Hitchcock, Nolan, Fellini e altri ancora. Oggi iniziamo a fare, anche se in realtà qualche anticipazione l'ho già fatta, una serie di video dedicati invece ai grandi scrittori, la filosofia e spesso anche la storia che sta dietro ai grandi scrittori, per collegare aspetti del programma di letteratura italiana o letteratura inglese o letteratura russa a invece gli aspetti più classici della filosofia e della storia. Iniziamo da un mostro sacro della letteratura italiana, forse un po' demodè per certi aspetti, ma ancora ampiamente studiato a scuola, cioè Alessandro Manzoni. Noi abbiamo già fatto video di questo tipo dedicato a Leopardi, con Manzoni chiudiamo così la pagina, diciamo, romantica e grandi esponenti del romanticismo italiano. Leopardi, poeta, Manzoni anche poeta per la verità, ma soprattutto famoso per il suo romanzo celebre che è considerato il primo grande romanzo italiano, i Promessi Sposi, che vengono letti e studiati da generazioni di italiani. Oggi introdurremo la sua figura, mettendola all'interno di un contesto storico, soprattutto letterario. Poi nei prossimi video, perché ce ne vorranno almeno, credo, due o tre, forse anche di più vedremo, analizzeremo meglio la sua filosofia, cioè la sua posizione anche politica, perché visse, oggi lo vedremo, in un periodo di grande fermento politico, e analizzeremo anche la sua impostazione storica, filosofica, approfonditamente. Andiamo a cominciare. Un socio di caffè nella solita tazza con la scritta andiamo a cominciare, che pronuncio sempre in apertura di ogni video, l'avete sentito anche prima, perché ormai è uno dei miei marchi di fabbrica, con me ci sono i soliti altri marchi di fabbrica, Cattoporino, Tostoi, Batman, De Andrei, il mostro perosso, il cuscino, e quest'altro mostricciatolo qua. E poi è giusto che mi presenti anch'io. Mi chiamo Romano Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia che su internet usa spesso il nickname di Scrip, e da tre anni, ormai superati abbondantemente, su questo canale realizzo ogni santo giorno, salvo forse caporanno e natale, dei video di storia e di filosofia, di educazione civica, che appunto, come vi dicevo nella premessa, molto spesso si legano al programma delle superiori e dell'università, ma a volte ampliano il discorso e soddisfano curiosità, e a volte cercano anche di andare a toccare altre discipline, altre materie. Attenzione, premessa necessaria. Io non insegno italiano, non insegno letteratura, come non insegno cinema, come non insegno arte, a volte però non insegno fisica, a volte però la filosofia e la storia necessariamente portano a collegamenti con queste discipline, e quindi è anche giusto che sia così, perché questa divisione così netta in discipline materie scolastiche è una cosa un po' artificiosa a dirla tutta, quando un filosofo scrive, a volte scrive anche con intenzioni letterarie o artistiche in certi casi, quindi lui non è che dice io sono un filosofo e devo far solo filosofia, dice io sono magari un filosofo che si esprime anche tramite la letteratura e via discorrendo, come anche uno scrittore, quello che noi oggi siamo uno scrittore, in realtà magari ha un suo pensiero, una sua filosofia, chiamiamola pure così, a volte più coerente, a volte più accennata, eccetera, ma ce l'ha e quindi vale la pena riscannagliarlo anche nell'ottica della filosofia, così anche per Alessandro Manzoni, personaggio che in filosofia non viene mai studiato, mai, in storia viene a volte citato molto velocemente alle superiori università perché obiettivamente ha avuto anche un ruolo, almeno nell'immaginario, del risorgimento, ma che ovviamente viene invece ampiamente studiato in letteratura italiana, da tutti gli studenti delle superiori italiane perché Dante, Manzoni e Leopardi sono i tre imprescindibili, Boccaccio se vogliamo aggiungere un altro, e Petrarca della tradizione letteraria italiana, Petrarca, Boccaccio e Dante come scrittori delle origini, Manzoni e Leopardi come scrittori del romanticismo, poi tutto il resto è noia, avrebbe da dire, nel senso che sul resto si può andare più veloci, si può approfondire e glissare, ognuno fa il percorso che un po' vuole, ma questi sono i cosiddetti mostri sacri. Quindi molto spesso, se voi avete fatto una scuola superiore a qualsiasi, avete studiato ampiamente Manzoni, ma da un punto di vista principalmente letterario. Certo vi hanno raccontato la sua vita, certo vi hanno cercato di delineare anche il suo pensiero, perché per capire bene le sue opere bisogna capire e comprendere bene il suo pensiero, sì, sicuramente, ma ripeto, questi aspetti del pensiero, la poetica e eventualmente anche il periodo storico, il contesto storico, rimangono un po' sullo sfondo, in un certo senso, mentre, come è logico che sia, durante lo studio della materia della letteratura italiana ci si concentra e focalizza soprattutto sui aspetti letterari, stilistici, narrativi, eccetera. Oggi noi inizieremo a fare esattamente il contrario, cioè metteremo da parte tutti gli aspetti narrativi, letterari, filologici, che a noi interessano relativamente. Non dico che non siano importanti, ma li lascio ad altri che se ne intendono sicuramente più di me. E noi invece ci occuperemo principalmente degli aspetti filosofici e storici, che sono entrambi ugualmente importanti, tanto quanto gli aspetti letterari, gli aspetti narrativi, perché Manzoni fu un uomo del suo tempo, fu un uomo immerso in una cultura e anche in un grande dibattito filosofico del suo tempo e cercò di dare il suo contributo. Quindi c'era una riflessione dietro, c'era anche un contesto con cui Manzoni si relazionava e quindi vale la pena riconoscerlo. In realtà questa analisi storico-filosofica sarà abbastanza articolata perché Manzoni, appunto essendo un mostro sacro, ci ha lasciato molto, ma soprattutto molti studi su di lui e quindi per dar conto almeno a grandi linee di tutto quello che c'è da dire, ci vuole un po' di tempo. Quindi oggi iniziamo come abbiamo fatto con Leopardi, ci vorranno varie puntate. Con Leopardi in realtà, mi metto un link in descrizione, abbiamo diviso in tre periodi il pensiero di Leopardi perché Leopardi cambia idea, almeno parzialmente idea, lungo gli anni. Con Manzoni invece non divideremo cronologicamente, ma divideremo per temi la trattazione. Oggi partiamo da una lezione molto introduttiva perché vorrei raccontarvi la vita di Manzoni che è importante per capire le connessioni con la storia del periodo, col pensiero del periodo, presentarvi anche velocemente le opere, fare una veloce carrellata su quali sono le opere più importanti, ovviamente i Promessi Sposi su tutto, e poi inquadrare meglio dal punto di vista storico questa figura, dove viveva, quando viveva, in che contorno, in che contesto operava. Cominciamo intanto però dalla vita. Prima di tutto Alessandro Manzoni nacque a Milano nel 1785, quattro anni prima dello scopio della rivoluzione francese. E questa è una cosa che va tenuta ben presente. Nasce su Finire del Settecento, che è stato un secolo contrassegnato in tutta Europa, ma anche in Italia, anche a Milano, dal proliferare delle idee dell'illuminismo. Questa filosofia, che abbiamo trattato in varie salce, in vari modi, magari in descrizione vi metto un link a un video introduttivo su questa scuola di pensiero, aveva avuto forse i suoi momenti più importanti in Francia, ma si è diffusa dappertutto, e aveva presentato se stesso come la filosofia del lume e dei lumi, che voleva portare a luci in mezzo all'oscurantismo, che voleva rinnovare la società, rinnovare lo Stato, dare i diritti ai cittadini. Insomma, una serie di ideali, anche spesso politici, ma non solo politici, anche poi religiosi, di critica religiosa, filosofici di senso ampio, eccetera, che avevano avuto un grande successo, che poi erano state forse anche la base della rivoluzione americana, dall'altra parte dell'oceano, e della rivoluzione francese che appunto cominciò nel 1789. Perché insisto su questo illuminismo? Perché Mazzoni è sicuramente figlio di questo illuminismo, anche se poi lui personalmente, come vedremo, come già immaginate, già sapete, aderisce, abbiamo detto, al romanticismo, che è la filosofia o la corrente culturale che nasce dopo l'illuminismo e che in un certo senso le si contrappone, perché il romanticismo si definisce anche per il rifiuto di certe caratteristiche dell'illuminismo e l'abbraccio verso caratteristiche opposte. Ma Mazzoni non può essere visto come un filosofo, un pensatore, uno scrittore romantico se prima non viene inquadrato come un pensatore e un letterato che ha mosso i suoi primi passi in un ambiente sostanzialmente illuministico. Milano, da questo punto di vista, è una città importante, importante per lui perché ci passerà gran parte della sua vita, ma è importante anche per gli ambienti illuministi perché Milano, in Italia insieme forse a Napoli, ma Milano forse anche con un ruolo più importante, era stata la, tra virgolette, capitale italiana dell'illuminismo. Mentre i filosofi illuministi a Parigi operavano, operavano anche in altre zone, nella Prussia orientale, in Scozia, eccetera, in Italia Napoli e Milano erano i due capisaldi delle nuove tendenze a Milano. In particolare c'era un gruppo di pensatori che ebbe anche un discreto successo a livello internazionale. Quali pensatori? In particolare ne citerei tre. I due fratelli Verri, Pietro e Alessandro, e Cesare Beccaria. Beccaria, in particolare, è quello che ha avuto forse il più grande successo a livello internazionale perché è stato autore di un libro intitolato Dei delitti e delle pene, che prima o poi leggeremo anche per l'intero perché è uno dei libri in lista nel Book Club Storico e Filosofico, quindi prima o poi ci arriveremo. Un libro giuridico, sostanzialmente, sui reati e sulle punizioni che venivano combinate a seguito del processo davanti a certi reati e sostanzialmente in cui Beccaria sosteneva con vari argomenti filosofici la necessità di abolire la tortura e la pena di morte. Questo libro di Beccaria ha avuto un grandissimo successo. Come dicevo, aveva influenzato il dispotismo illuminato, aveva portato cambiamenti nei codici civili, austriaci, prussiani, americani in particolare, insomma, un grande successo. Perché insisto su questi? Cosa c'entrano con Manzoni? Perché Manzoni è imparentato con questi personaggi. Vi ho detto, nasce a Milano, nasce a Milano figlio di due personaggi, almeno stando alle carte. Chi sono questi due personaggi? La madre si chiama Giulia Beccaria Beccaria e cognome vi trovo che sono affamiliare perché è la figlia di Cesare Beccaria, dell'autore dei delitti e delle pene, che quindi è il nonno materno di Alessandro Manzoni. Quindi, vedete, deriva da, forse il più importante, il luminista italiano. Uno dei più importanti, sicuramente quello più noto a livello internazionale. E già qui abbiamo un punto fermo e saldo. L'altro genitore, il padre, è Pietro Manzoni, un nobile di origine lecchese, lombardo, ha già abbastanza avanti con gli anni. Giulia, la madre, è piuttosto giovane quando ha Alessandro, il padre, invece, è abbastanza più vecchio, relativamente più vecchio. I due sono uniti in matrimonio da poco, ma questo matrimonio ha delle caratteristiche un po' particolari. Infatti, vi ho detto, sulla carta loro sono i genitori, ma forse solo sulla carta. Nel senso che, da quando Manzoni è morto, forse anche da quando era in vita, moltissimi storici e critici si sono domandati se Pietro Manzoni fosse davvero il padre di Alessandro Manzoni. Certo, gli ha dato il cognome, certo lo ha riconosciuto come suo figlio, ma era davvero il padre naturale di Alessandro Manzoni. Ecco, su questo punto ci sono moltissimi dubbi, moltissime perplessità. Perché? Perché Giulia Beccaria, poco prima di sposarsi, aveva avuto una relazione, forse anche continuata dopo il matrimonio, con Giovanni Verri, che era uno dei fratelli minori dei due fratelli Verri del caffè dell'illuminismo milanese di Alessandro e Pietro Verri. Questo Giovanni era un personaggio un po' così, meno filosofo, più avventuriero, aveva avuto una piccola carriera all'interno dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, poi era andato in giro per navi, aveva avuto anche una certa fama, oggi diremmo, di Latin Lover, cioè di uomo appassionato nei confronti delle donne, anche fascinoso. E appunto, poco prima che Giulia si sposasse con Pietro Manzoni, i due avevano avuto, molto probabilmente, una relazione. Una relazione che sembrava poter anche culminare verso un matrimonio, ma contro quest'esito si erano opposti i fratelli Verri che non volevano quest'unione. Quindi Giulia era stata alla fine data in moglie a questo Pietro Manzoni, un nobile con cui non aveva nessun legame fino a quel momento e dopo poco era nato Alessandro. Secondo varie ipotesi che sono suffragate anche da sospetti legittimi, da quadri donati, da varie circostanze, è probabile, non può essere certo perché ovviamente certezze non abbiamo, ma è probabile che il vero padre naturale di Alessandro Manzoni fosse appunto Giovanni Verri. Quindi, comunque si è andata, sicuramente Alessandro era imparentato da parte di madre con il più grande illuminista italiano, ma probabilmente era imparentato anche da parte di padre con gli altri grandi illuministi milanesi del tempo. Quindi deriva da una famiglia che sicuramente è legata a doppio filo all'illuminismo. Tra l'altro il matrimonio di sua madre Giulia con il conte Manzoni non durò molto, i due si separarono abbastanza presto e Giulia poi si trasferì per un certo periodo anche a Parigi seguita dal figlio perché andò a vivere insieme, divenne la compagna di Carlo Imbonati. Questo Carlo Imbonati era un nobile molto ricco italiano, origine italiana che divenne quasi un secondo padre per il giovane Alessandro Manzoni a Parigi. Poi Imbonati morì anche piuttosto presto e questo fu uno dei primi ma non ultimi lutti che segnarono la vita di Manzoni. Tra l'altro da giovane e da bambino Manzoni era stato educato in alcuni collegi tenuti da ecclesiastici e questo aveva fatto maturare un sentimento che in gioventù era stato abbastanza anticlericale coadjuvato poi anche da questa formazione di stampo illuminista. Gli illuministi milanesi ma non solo milanesi in generale tutti gli illuministi guardavano con grande sospetto il ruolo della chiesa cattolica. Molto spesso erano deisti questi filosofi se non proprio addirittura atei in certi casi deisti cioè riconoscevano la presenza di un dio di un ente supremo ma non credevano che questo dio fosse ben rappresentato dalla chiesa cattolica che invece aveva tradito l'ideale aveva tradito la religiosità aveva creato un'organizzazione politica che serviva a tenere gli uomini nell'ignoranza questo credevano gli illuministi che quindi criticavano apertamente la chiesa come istituzione. Manzoni da giovane era probabilmente di queste stesse idee o comunque aveva una certa antipatia lo sappiamo da alcune lettere nei confronti dei preti e della chiesa in generale e se ne tende abbastanza a distanza per i primi anni della sua formazione. In compenso a Parigi poté respirare proprio nella casa di Limbonati e poi anche dopo la morte di Limbonati un'atmosfera nuova perché siamo nella Parigi inizio ottocento attenzione nella Parigi che ha attraversato la rivoluzione francese quel decennio tumultuoso di grandi cambiamenti di grandi sconvolgimenti di rionfo degli ideali luministi ma anche di problemi messe a morte guerra eccetera e che ormai però si avvia verso l'età napoleonica anzi è entrata pienamente nell'età napoleonica con Napoleone che si presenta come l'uomo forte in grado di cementare rafforzare alcune conquiste della rivoluzione ma anche diciamo con un rispetto dei diritti civili abbastanza limitato tutto sommato in questa atmosfera parigina dove Napoleone domina dove tra l'altro i salti sono anche tenuti sotto controllo dal potere si inizia a diffondere anche un sentimento nuovo che non è più quello illuministico quello che aveva dominato la scena nei decenni precedenti ma ormai è anche un'anticipazione di romanticismo che poi sarebbe scoppiato in tutta Europa prendendo le mosse magari prima dall'ambiente tedesco e poi anche in Francia anche in Italia e altrove ecco Mazzoni vive in questa situazione inizia a far conoscenze certo lui è anche un tipo piuttosto riservato non è certo un uomo di mondo però risente di questa atmosfera qualche amicizia ce l'ha qualche contatto letterario ce l'ha e risente di questa atmosfera che si sta gradualmente spostando dall'illuminismo al romanticismo nel frattempo lui vive ovviamente con sua madre con Giulia Beccaria che inizia a lavorare per trovargli una moglie perché questo Alessandro sta crescendo vi ho detto nato nel 1785 primi anni dell'ottocento ormai vent'anni praticamente 18-20 anni e bisogna cercargli una moglie questa moglie viene alla fine individuata nel 1808 quindi quando Manzoni ha 23 anni in una figlia di un banchiere svizzero che si chiama Enrichetta Blondel questa giovane ragazza giovanissima viene trovata scelta un po' per procura nel senso che gliene parlano i due si incontrano quando ormai il matrimonio è già quasi pattuito ma questo incontro è molto fortunato nel senso che Manzoni trova in Enrichetta un'anima veramente che si sposa bene alla sua la sua indole il matrimonio tra i due sarà molto felice durerà in realtà fino a 1833 quando poi Enrichetta morirà prematuramente e questo sarà un altro dei grandi lutti a cui il povero Manzoni andrà incontro ce ne saranno anche altri ovviamente ora Enrichetta però vi dicevo in Svizzera provenire da una famiglia i Blondel che sono in realtà non cattolici ma calvinisti in effetti originalmente il matrimonio si celebra prima il rito civile e poi subito il rito calvinista segno che per il giovane Manzoni l'appartenenza al cattolicesimo che era chiaramente la religione dominante in Italia è un fatto di mera circostanza non gliene importa granché in questa fase però in realtà il matrimonio che viene subito poi baciato da una serie di figli e ne avranno dieci Alessandro e Enrichetta poi non tutti sopravvivranno non tutti arriveranno alla maggiore età anzi pochi ma questo matrimonio inizia a portarlo poi anche a un ripensamento generale della sua appartenenza religiosa questo suo anticlericalismo questo suo distanza poi dal dai dettami del cristianismo inizia a essere ripensato e già tra il 1809 sostanzialmente il 1810 Manzoni pensa di convertirsi questa conversione è stata ampiamente discursa ribattuta i critici l'hanno indagata cercato di capirla delinearla ci sono opinioni contrastanti anche perché Mazzoni non ha mai chiedito del tutto come sia avvenuta in che tempi se repentinamente o più a lungo ci sono leggende secondo cui fu una cosa molto repentina altre che invece parlano di un travaglio interiore molto lungo insomma alla fine poi ci interessa relativamente in quanto tempo avvenne l'importante è che a un certo punto Mazzoni si convertì al cattolicesimo decise di aderire stavolta risolutamente al cattolicesimo chiese anche perdono per essersi sposato con il rito calvinista insomma entrò nel seno della chiesa cattolica tra l'altro grazie all'intercessione di alcuni sacerdoti vescovi in particolare che divennero suoi punti di riferimento con cui si confrontava che erano i suoi pari spirituali questi sacerdoti questi vescovi in realtà però appartenevano un po' particolare del cattolicesimo per cui anche lo stesso Mazzoni poi fu un cattolico tra virgolette a modo suo rispetto al tempo in cui visse nel senso che questi esponenti della chiesa avevano aderito al jansenismo il jansenismo è una corrente interna della chiesa che proprio in quegli anni era stata però sostanzialmente condannata dalla chiesa ufficiale e messa al bando sostanzialmente dopo che per tutto il 600 e il 700 aveva tentato di trovare spazio soprattutto in Francia avevamo parlato ad esempio parlando di Pascal se vi ricordate vi metto in descrizione un link alla playlist su Blaise Pascal grande filosofo francese che tra i primissimi aveva aderito al jansenismo prima che venisse appunto dichiarato eretico dalla chiesa ebbene questo jansenismo che era stato a lungo perseguitato in Francia era però sopravvissuto in altre zone d'Italia in particolare nel 700 d'Europa e nel particolare nel 700 era arrivato anche in Italia ricorderete che ad esempio quando abbiamo parlato di Pietro Leopoldo il granuca di Toscana di famiglia Spurgica che aveva tentato di fare tutta una serie di riforme in Toscana vi metto un link in descrizione se non vi ricordate c'era stato da parte sua anche il tentativo di modificare di riformare la chiesa toscana sulla base di alcuni ideali tipici del jansenismo italiano in particolare con l'intercessione del vescovo Scipione dei Ricci l'abbiamo parlato ampiamente ecco questo jansenismo che operava un po' in difficoltà in Italia magari anche nascostamente eccetera era un jansenismo con l'italiano un po' più moderato di quello francese ma c'era e aveva una profonda influenza su Manzoni quindi più avanti quando parleremo più profondamente dei suoi ideali della sua visione anche della provvidenza della grazia delle libertà riprenderemo questo tema intanto sappiate che appunto dal 1809 al 1810 arriva a questa conversione e l'adesione a un cristianesimo cattolico però di matrice calvinista la vita prosegue Manzoni inizia anche a produrre opere tra poco le vedremo più in dettaglio fino a quando appunto dal punto di vista personale arriva il grande lutto pesantissimo per Manzoni con la morte di Enrichetta nel 1833 come vi dicevo la voglia è tanto amata che però lo lascia Manzoni poi si risposerà qualche anno più tardi nel 1937 con una vedova anch'essa Teresa Bordi stampa il matrimonio non sarà altrettanto felice ma comunque lo porterà avanti per molti anni anche questo secondo matrimonio e però soprattutto in questi anni Manzoni dà le stampe quella che sarà la sua opera principale Promessi Sposi che vedremo dal punto di vista filosofico storico anche perché è un romanzo storico e questo è molto importante ma soprattutto è importante questo libro perché pone Manzoni in un certo senso come capofila del movimento letterario risorgimentale italiano Leopardi di cui abbiamo già parlato in descrizione vi ho detto c'è la playlist sì in certe poesie si rivolge anche alla causa italiana ma tutto sommato non aveva fatto in tempo ad occuparsi veramente di risorgimento ad assumere un ruolo politico importante con la sua poesia con la sua letteratura Manzoni invece fa in tempo e insieme forse a Giuseppe Verdi come musicista e a pochi altri ad Aies come pittore diventa il punto di riferimento letterario del movimento risorgimentale cioè di quei giovani patrioti che vogliono unificare l'Italia se ci pensate anche solo un attimo i Promessi e Sposi che storia raccontano raccontano la storia di una Milano occupata di una Lombardia occupata dallo straniero dagli spagnoli che impongono con la violenza una serie di regole ingiuste di norme ingiuste e vessano e sfruttano la cittadinanza locale ecco ovviamente questo racconto ambientato un paio di secoli prima nel seicento poteva essere letto come una metafora neppure troppo velata dell'occupazione austriaca della Lombardia perché la Lombardia come il Veneto erano sotto il regno Lombardo Veneto cioè sotto l'Austria ora Manzoni acquisisce una grande fama grazie a quest'opera e davvero anche un ruolo quasi di guida nei confronti di un certo mondo letterario anche poi per tutta una ricerca importante dal punto di vista linguistico e ne parleremo velocemente un ruolo di guida a cui però Manzoni non vuole più di tanto aderire con cui si trova a disagio Manzoni non vuole essere la guida di nessuno verrebbe da dire anzi appunto in questi anni successivi soprattutto dopo la morte di Enrichetta poi la morte di alcuni figli e poi altri lutti morti di amici a cui era fortemente legato Manzoni tende a richiurirsi sempre di più in se stesso a evitare le occasioni mondane inizia a soffrire anche di varie forme di nevrosi tra cui l'agorafobia insomma preferisce vivere ritirato ogni tanto qualcuno lo va a trovare famoso ad esempio un incontro con Garibaldi Garibaldi lo vuole conoscere lo vuole visitare Cavour lo vuole conoscere tutti lo vogliono conoscere ma Manzoni certo non si tira in vieto quando c'è da incontrare questi personaggi l'incontra ma non si può dire che sia molto contento non si può dire che voglia assumere questo ruolo di ivate potremmo quasi dire che altri gli vorrebbero affibbiare vive ritirato negli ultimi anni muore nel 1873 quindi anche piuttosto anziano perché aveva quasi 90 anni viene sepolto nel cimitero monumentale di Milano andatelo a vedere perché è bello ne abbiamo anche parlato e adesso però vediamo velocemente anche le sue opere molto velocemente perché appunto non facciamo una questione letteraria troppo netta ma almeno per dare menzione alle opere principali Manzoni pubblica la prima raccolta importante che sono gli inni sacri in cui già inizia a linearsi questa attenzione verso ciò che è religioso ciò che è cattolico ciò che è cristiano ma tentando di legare poi il cristianesimo ai nuovi motivi romantici verso cui Manzoni è molto interessato a cui sta aderendo e che lo influenzano molto l'inizio è quindi principalmente poetico si occupa principalmente di poesia a volte scrive anche alcuni saggi e poi ne parliamo l'opera da punto di vista poetico però più importante arriva a qualche anno più tardi nel 1821 quando scrive e pubblica l'ode più famosa di Manzoni che ancora oggi viene studiata ricordata citata anche a volte a sproposito che è il 5 maggio il 5 maggio è un'ode dedicata a Napoleone che muore proprio il 5 maggio del 1821 come sicuramente ricorderete in descrizione vi metto un link alla fine di Napoleone che viene celebrato nelle sue aspirazioni nelle sue delusioni nelle sue cadute e slanci proprio da Manzoni con questa celebre poesia eifu come si cita tantissime volte dopodiché dopo questo inizio più propriamente poetico Manzoni inizia a bagheggiare l'idea di scrivere un grande romanzo ispirato dalla lettura di Walter Scott dell'Aivano e dal diffondersi del romanzo storico in Europa anche lui pensa che sia giunto il momento di scrivere un romanzo storico per l'Italia questo romanzo storico viene scritto lungo un arco di anni piuttosto lungo perché viene scritto una volta rimaneggiato riscritto risistemato la storia dei promessi esposi è anche dal punto di vista della composizione piuttosto lunga e complessa inizialmente la prima edizione è 1827 col titolo di Fermo e Lucia Fermo è il primo nome originario di quello che sarà poi Renzo però poi un libro che ha ancora un carattere troppo letterario nel linguaggio eccetera Manzoni va come si dice a sciacquare i panni in arno va a imparare la parlata l'italiano fiorentino e tenta di riscrivere il suo romanzo con questa lingua che diventa poi l'italiano standard sostanzialmente e lunga gestazione lunga lavorazione alla fine i promessi esposi arriveranno nel 1840 quindi un'opera che effettivamente è l'opera cardine della produzione di Manzoni e segna anche per certi versi il primo grande romanzo italiano perché il genere del romanzo soprattutto il romanzo storico non era così praticato all'epoca e rappresenterà una pietra di paragone per molti altri romanzieri successivi la sua produzione però non si limita ai romanzi scrive anche diverse tragedie a volte proprio con un taglio storico per questa nuova attenzione alla storia che è tipica del romanticismo e ne parleremo in particolare i conti di Carmagnola e la Delchi sono le più famose e anche queste a volte le avete sentite sicuramente citare e magari le avete anche studiate ma per chiudere questa panoramica sulla produzione citerai anche alcuni saggi perché in parallelo mentre si occupa di poesia di prosa e di teatro e di tragedie Manzoni approfondisce in alcuni saggi il suo pensiero a volte un pensiero più filosofico a volte un pensiero più storico in particolare citarei tre uno 1819 osservazioni sulla morale cattolica che gli permette di proporre il suo pensiero di nuovo cristiano perché si è ormai convertito ormai adedito al cristianesimo mescolato poi o comunque cercando una sintesi tra la sua visione del cristianesimo e gli ideali illuministi con cui era cresciuto in qualche misura e le critiche che l'illuminismo aveva rivolto alla chiesa cercando di rispondere a queste critiche quindi 1819 osservazioni sulla morale cattolica un altro saggio importante dell'invenzione dove si occupa di narrativa soprattutto ma il terzo saggio che vorrei citare che è più storico di cui parleremo ancora è storia della colonna infame che viene pubblicato come appendice sostanzialmente ai promessi esposi in cui Manzoni riversa tutte quelle o meglio l'esito di tutte quelle ricerche storiche che aveva fatto per documentarsi in vista dei promessi esposi i promessi esposi come ben sapete sono un'opera di fantasia raccontano una storia inventata però all'interno di un panorama storico quello della Milano della prima metà del seicento che è abbastanza fondato ben fondato sul quale Manzoni aveva studiato a lungo e che aveva cercato di comprendere e conoscere tramite opere di storia cronache eccetera ecco quelle ricerche che aveva fatto per documentarsi per preparare al meglio l'ambientazione del romanzo poi gli consentirono di scrivere anche questo saggio che racconta in particolare un processo che lui ritiene ingiusto nel confronto di due presunti untori nella Milano del 1630 quindi è un saggio storico che è interessante anche per capire l'idea di storia che aveva Manzoni e che però nel corso dei secoli degli anni ha tirato sia elogi sia critiche anche cercheremo di capire perché elogi perché critiche questo per dire le opere ora dopo questa introduzione che comunque come vedete è già abbastanza corposa vediamo anche l'epoca storica più in dettaglio in cui Manzoni si trova ad agire perché questa epoca storica lo influenza e lui le influenza pesantemente come vi dicevo già qualche minuto fa per capire bene Manzoni bisogna capire la sua epoca e il fatto che la sua è un'epoca per il passaggio Manzoni dicevo nasce nel 1785 fine al settecento quando gli ideali dell'illuminismo trovano concretizzazione in maniera traumatica anche se vogliamo nella rivoluzione francese e poi vengono superati da Napoleone e dal romanticismo ecco Manzoni è figlio di tutto questo perché in lui permangono forti aneliti di idee di stampo illuminista cioè la ricerca della libertà dell'uguaglianza delle questioni attenzione alle questioni sociali eccetera che sono tratti tipicamente della filosofia illuminista che aveva segnato suo nonno Cesare Beccaria e altri a cui era stato molto vicino ma declinando in una chiave nuova perché ovviamente la Milano di fine settecento è una Milano che non è libera perché è sotto gli ostieci ma la Milano in fine settecento è ancora meno libera perché prima arriva Napoleone perché l'Italia verrà soggettata in un modo o nell'altro dalle truppe napoleoniche con il regno d'Italia il beve Dulata eccetera ma poi ritornano gli ostiaci e l'Italia che nel settecento poteva essere ancora relativamente libera diventa nell'ottocento del primo ottocento un paese che non è libero ma soprattutto che vuole lottare per la propria libertà il sentimento nuovo che è il sentimento nazionale se li fanno in tutta Europa arriva anche in Italia abbiamo detto quando abbiamo parlato del risorgimento italiano con Mazzini con Garibaldi con lo stesso Cavour con mille altri ecco Mazzoni è figlio di quest'epoca in cui un primo sentimento italiano si sta formando nel nostro nella nostra penisola nel nostro paese e però questo sentimento viene frustrato dal fatto che la penisola non è libera il Lombardo Veneto è direttamente sotto gli ostiaci la Toscana è praticamente sotto gli ostiaci anche se in maniera indiretta lo stato della chiesa vive solo della protezione altrui francese o ostiaca il regno di Napoli anch'esso è il regno del Sicilio ormai è soggettato in qualche misura al volere degli altri insomma l'Italia non può farsi da sola non può decidere del proprio destino e questo costa con gli ideali anche illuministi bisogna trovare un compromesso tra individuo e società ed è questo un tema tipico del romanticismo non solo in manzoni in tanti scrittori anche in tanti filosofi da un lato c'è l'individuo che l'illuminismo aveva esaltato che però si sente ormai parte di una comunità di un gruppo di un popolo di una nazione se vogliamo dirla con le parole chiave del periodo e questa nazione deve essere libera tanto quanto è libero l'individuo quindi se nel 7 agendio siamo occupati di diritti dell'individuo e quindi i diritti fondamentali i diritti naturali le libertà eccetera adesso dobbiamo parlare di diritti delle nazioni delle libertà delle nazioni quindi anche la possibilità di queste nazioni di dover rendere conto a qualcun altro di poter decidere del proprio ruolo ovviamente questo porta a frizioni anche tra individuo e società perché che ruolo può avere l'individuo in mezzo a questo popolo in mezzo a questa nazione quale compito deve assumersi e Mazzoni queste cose le direi anche prima persona perché vi dicevo lui stesso non sa bene che ruolo assumere a livello pubblico è un letterato è uno scrittore scrive anche opere che hanno un impatto pubblico pensate al 5 maggio che è un'opera che appunto si occupa di casi pubblici della morte di Napoleone pensate ai promessi sposi che raccontano una storia di vita vissuta di due umidi nella Lombardia del Seicento ma che ovviamente ha un influsso sulla società sulla situazione politica ecco Mazzoni vive quindi questa epoca di passaggio in cui sta nascendo qualcosa di nuovo non sa bene cosa e lui stesso è combattuto è combattuto nei confronti del risorgimento non perché non aderisca al risorgimento chiaramente lui è un capofila letterario almeno culturale ideale di questo risorgimento cioè della lotta per l'unificazione italiana anche se lui non prende mai posizione in maniera attiva da protagonista nella scena certo ha contatti con Massimo Razzeglio ha contatti con Cavour ha contatti con Garibaldi ha contatti con tutti i protagonisti ed è come vi dicevo considerato un punto di riferimento per chi combatte lui poi ovviamente per indole per la sua concezione se ne sta un po' in disparte però è un punto di riferimento importante chiaramente questo poi lo renderà al momento dell'unificazione italiana che lui vede perché lui è ancora vivo al momento dell'unificazione anche il primo grande letterato dell'Italia Unita il maestro lo scrittore di riferimento questa è una dimensione importante della sua vita quindi passaggio dall'illuminismo al romanticismo passaggio da un'attenzione all'individuo all'attenzione alle nazioni e la lotta per l'unità dell'Italia l'altro grande elemento storico che influisce su di lui è il ruolo del cristianesimo come vi dicevo lui proviene da un'esperienza come molti altri intellettuali del settecento di estrazione illuminista da un'esperienza che aveva cercato di mettere ai margini la chiesa cattolica che aveva ampiamente criticato la chiesa cattolica che pensate quello che succede nel settecento quando ad esempio i gesuiti che era l'ordine più potente all'interno del mondo cattolico vengono cacciati da tutti i paesi fino a che l'ordine non viene chiuso soppresso per qualche tempo la chiesa cattolica soprattutto nei suoi aspetti più tradizionalisti diventa il bersaglio polemico principale degli illuministi i manzoni muove i suoi primi passi lì in quest'ambiente poi c'è la conversione c'è l'idea di cambiare insomma di aderire a un nuovo approccio aderire al cristianesimo ma quale cristianesimo ecco qui possiamo già anticipare qualcosa dal punto di vista storico che poi vedremo meglio dal punto di vista filosofico il cristianesimo in Italia nell'ottocento è anch'esso una fase di svolta di cambiamento di passaggio perché perché il cristianesimo della contoriforma quello che si è formato o delineato nel seicento fine cinquecento seicento e che ha dominato la scena almeno in Italia per parecchio tempo nel settecento è andato in crisi la contoriforma è stata vista come l'emblema dell'oscurantismo l'emblema del passatismo qualcosa da spazzare via e la chiesa si è vista mettersi sulla difensiva perché è stata attaccata dal mondo intellettuale è stata attaccata dalle più grandi menti del periodo e si è trincerata su se stessa probabilmente avete presente quello che succede ad esempio quando i francesi arrivano in Italia durante la rivoluzione nascono le cosiddette repubbliche giacobine nel sud Italia nasce la repubblica parte europea contro cui si scaglia l'armata della santa fede del cardinale ruffo ricordate vi metto un link in descrizione una cosa del genere è avvenuta anche in Francia in Vandè insomma la chiesa è l'esercito della contro rivoluzione è l'esercito che più di tutti si scaglia contro gli ideali luministici che hanno portato alla rivoluzione francese che hanno portato addirittura all'arresto di due papi consecutivi insomma la lotta tra i ideali luministi e chiesa è fortissima tra l'altro lo stesso Pio IX Papa che nell'Ottocento domina la scena in Italia inizialmente aveva era sembrato anche aprire ad alcune istanze liberali poi chiude ogni versante ogni finestra a questo contatto Manzoni quindi aderisce sia al cristianesimo ma come dicevo vederisce dal punto di vista giansinista e soprattutto vederisce senza dimenticare del tutto quella che era stata la sua formazione cioè adesso è disponibile a mettersi in ascolto sotto la autorità della chiesa Manzoni rimarrà comunque obbediente al papato eccetera ma Manzoni ha anche convinto che la chiesa abbia bisogno di un profondo rinnovamento non è l'unico a pensarla così Manzoni viene spesso annoverato nella corrente dei cosiddetti cattolici liberali di inizio ottocento ne abbiamo parlato anche in storia vi metto un link in descrizione insieme a Rosmini ed altri personaggi che aderiscono al cattolicesimo che si sentono anche fedeli alla chiesa al papa e alle gerarchie ma che dicono anche che la chiesa dovrebbe cambiare un po' passo dovrebbe cambiare linea politica dovrebbe cambiare anche in parte ideologia nel senso che la chiesa che continua ad appellarsi alla contoriforma continua ad appellarsi all'assolutismo che continua ad appellarsi ai vecchi sistemi è ormai fuori dal tempo bisogna rinnovare la chiesa e trovare una commissione un'unione un punto d'incontro tra filosofia cattolica cristiana teologia cristiana e filosofia liberale perché secondo Manzoni in particolare ma anche altri ci sono dei punti di contatto liberalismo che esalta i diritti dell'individuo esalta la persona può andare bene può andare d'accordo anche col cattolicismo cassovolta esalta la persona la dignità della persona certo non tutto collima perfettamente il liberalismo è spesso anticlericale bisogna trovare degli accorgimenti degli aggiustamenti ma le due dottrine possono anche fondersi e l'influsso liberale potrebbe permettere secondo Manzoni un rinnovamento profondo della chiesa cattolica un suo adeguamento ai tempi non più essere la chiesa di due secoli prima una chiesa proiettata in avanti questa lettura di Manzoni che segna anche parte del suo impegno viene però frustrata quasi subito nel senso che già nel 1832 quindi un anno prima della morte di Enrichetta quando Manzoni per carità ha già una certa esperienza sta già lavorando i promessi sposi eccetera nel 1832 il papa di allora Gregorio XVI condanna le tesi liberali cioè dice una fusione tra cristianesimo e liberalismo non è possibile si sono sbagliati quei fedeli che hanno tentato di fare questo quest'anno ma è stata abbastanza forte dal punto di vista politico per Manzoni che aveva sperato invece di poter proporre insieme ad altri ovviamente un lavoro di questo tipo e da quel punto di vista da quel punto di poi Manzoni coprice anche poi Lutti effettivamente prenderà una posizione più defilata nel dibattito pubblico relativamente alla chiesa però vedete anche qui è un'epoca di cambiamenti è un'epoca di passaggi sta sorgendo l'orizzonte qualcosa di nuovo nel caso italiano l'unità d'Italia nel caso della chiesa il modernismo quello che verrà poi chiamato modernismo cioè le nuove istanze politiche con cui la chiesa deve fare i conti Manzoni si trova un po' con un piede in due staffe potremmo dire sospeso tra il vecchio e il nuovo nel caso del romanticismo tra il luminismo e il romanticismo nel caso del cattolicesimo tra cattolicesimo e cattolicesimo moderno e spesso viene un po' spezzato da questo avere i piedi in due staffe perché si trova in mezzo a due fuochi e quindi anche questa scelta alla fine di rinchiurersi un po' in se stesso sembra essere una forma di reazione davanti a un mondo che non riesce sempre a raccogliere il suo messaggio pienamente però capite che è un'epoca importante questa perché è un'epoca in cui si decide il futuro in cui si decide come nascerà l'Italia e alla fine l'Italia nascerà e che ruolo avrà la chiesa in questa Italia e la chiesa non avrà nessun ruolo perché alla fine ricorderete che la chiusura dei vari papi Gian Gregorio XVI ma poi anche più nono soprattutto porterà a una frottura insanabile per il momento tra chiesa e Stato tra Stato italiano e chiesa cattolica che verrà sanata solo durante il fascismo cioè 60 anni dopo quindi per molto tempo il progetto anche di Manzoni rimarrà irrealizzato ecco questo era quello che secondo me c'era l'idea per inquadrare un po' la faccenda per dare qualche punto cardinale per porre le basi dei discorsi che faremo nelle prossime puntate la prossima volta parleremo della filosofia parleremo del cristianesimo parleremo più in dettaglio di aspetti concettuali che qui abbiamo sfiorato velocemente e poi parleremo di giustizia di provvidenza di libertà di dignità di storia di vari aspetti insomma che abbiamo anticipato oggi ma che approfondiremo per oggi visto anche il minutaggio però ci fermiamo qui vi ricordo che questo video è diviso in capitoli sotto in descrizione trovate i titoli che sono comparci qui per far ripartire il video da un punto o dall'altro e sempre in descrizione trovate anche il link a tutti i video che ho citato sono citati vari e alle varie playlist e social network e le newsletter che servono per rimanere in contatto la newsletter in particolare è una lunga mail che scrivo una volta a settimana dove faccio appunto dei video fatti dei podcast fatti dei libri che sono del genere di film che sto vedendo appunto parliamo anche spesso di letteratura oltre che di filosofia di storia eccetera quindi se vi piacciono queste discipline guardateci infine sempre in descrizione trovate anche i modi per sostenere questo progetto è un progetto impegnativo costoso anche in termini di fatica di tempo ma anche di soldi e attrezzature se volete darmi una mano a farlo sempre meglio lì trovate i modi per fare donazioni per comprare libri per abbonarvi soprattutto al canale youtube gli abbonati in cambio di pochi euro al mese dicete voi poi la taglia hanno dei vantaggi esclusivi come ad esempio video di anteprima canale telegramma dedicato dirette riservate dispense di filosofia ma anche poi la possibilità di proporre video ad esempio il video di oggi questo su manzoni nasce proprio da proposte degli abbonati e poi con un sondaggio particolare che abbiamo fatto eccetera se quindi volete anche voi fare pressioni perché faccia prima certi argomenti ammesso che poi io sia in grado di farli perché non è che proprio si va a comando ma quando sono in grado di farli nel modo in cui sono in grado di fare e quei tempi che sono in grado di farlo ecco tramite l'abbonamento potete proporre questi temi e cerco nei limiti del possibile di darvi ascolto basta ho finito detto tutto ci vediamo presto per proseguire questo discorso su manzoni e poi per tanti altri video di storia, filosofia ed educazione civica ciao grazie a tutti grazie a tutti